Vi parlo del prossimo incontro online, mercoledì 15 maggio alle 18.30. Il titolo che ho scelto è Come superare la paura del giudizio degli altri. È un tema fondamentale, perché se vivo nell'idea che gli altri debbano esprimere un'opinione su di me, un parere su di me, nell'idea che ho di venire approvato, nell'idea che gli altri debbano in qualche modo diventare dei miei referenti per valutare me stesso, io sono perduto. Sono perduto perché finisco per assumere atteggiamenti, per compiacere. Ma poiché dentro di noi c'è qualcosa di più grande di noi, qualcosa che la sa più lunga di noi, finisco prima o poi per vivere nell'angoscia di non andare bene. L'angoscia di non andare bene tende a cronicizzarsi, a perpetrarsi e tutte le volte che incontro delle persone o in una relazione o sul lavoro io finisco per dirmi queste parole terribili. Sono andato bene? Sto funzionando? Ecco, nell'incontro del 15 maggio io mi soffermerò moltissimo su quelle tecniche psicologiche fondamentali perché tu abbia come riferimento quel lato di te che non vedi. finché io mi giudico non potrò mai seguire la mia natura. Nessuno è nato per essere buono nessuno è nato per essere approvato dagli altri ciascuno è nato per svolgere la sua unicità e nel momento in cui ti liberi dall'idea che sono gli altri e il loro giudizio che ti deve accompagnare nella vita tu ti accorgi intanto che arrivano vedi i propri attacchi di gioia poi ti accorgi che vai verso la tua strada tre smetti la cosa più importante di tutti di giudicarti diventi innaturale non c'è gioia di vivere se tu non segui la tua naturalezza vi aspetto il 15 maggio alle 18.30